L'aeronautica militare al servizio del paese. Al settantesimo stormo formati 18 nuovi piloti d'aeroplano. Sorvoli e acrobazia al Bari-San Nicola Airshow 2019. Bentornati al consueto appuntamento settimanale con le notizie di Videonews. All'aeroporto militare di Pratica di Mare è andato in scena un grande evento dimostrativo voluto dal Ministero della Difesa, al quale ha preso parte anche l'aeronautica militare. Vediamo di cosa si tratta nel servizio realizzato dalla nostra inviata. L'aeroporto Mario De Bernardi dell'Aeronautica militare ha ospitato l'evento dal titolo Duplice uso sistemico, impiego innovativo delle forze armate al servizio del paese che si è svolto lo scorso martedì alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del Ministro della Difesa Elisabetta Trenta e del Capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Enzo Vecciarelli. Numerosi gli studenti delle scuole superiori di Roma e Pumezia e gli allievi degli istituti di formazione presenti alle attività dimostrative, oltre alle autorità politiche e militari, che hanno assistito alle simulazioni dei diversi scenari, tutti rigorosamente in versione dual use. Per l'occasione, l'aeronautica militare ha simulato il trattamento in alto biocontenimento di un paziente altamente infettivo, trasportato da un C-130J, e un'attività di ricerca e soccorso di personale in difficoltà grazie all'intervento di un elicottero HH-139A del quindicesimo stormo. Ad alzarsi in volo è stata anche una coppia di F-35 che ha simulato uno scramble a favore di un P-180 sospetto a tutela del controllo dello spazio aereo. Successivamente, il velivolo intercettato è stato sottoposto ad un intervento di decontaminazione da sostanze chimico-batteriologiche e radioattive per la discesa in sicurezza dell'equipaggio a bordo. Inoltre, numerosi gli assetti rischierati sulla base romana, dall'F-35 all'AeroFighter, dal Tornado all'MX, dal KC-767 al C-130J e al P-180. In mostra statica, l'aeronautica militare ha presentato anche alcune delle sue peculiari capacità che in emergenza possono essere facilmente utilizzate al servizio della collettività, come la capacità Counter Unmanned Aerial System per il contrasto di minacce derivanti dall'utilizzo illegittimo di droni, o l'attività di riconiezione tecnica e di rilevazione di informazioni necessarie per azioni da compiere sugli scenari soggetti ad investigazione. Attività queste che discendono dal continuo addestramento del personale militare per mantenere e migliorare costantemente le capacità a duplice uso di difesa del Paese, la salvaguardia dello spazio aereo nazionale e per assolvere i compiti assegnati nelle missioni all'estero in cooperazione con altri attori della comunità internazionale. Sono 18 le aquile di pilota ad aeroplano che lo scorso 3 maggio alla Scuola di Volo di Latina sono state appuntate sul petto di altrettanti giovani ed emozionati allievi. Da Latina la nostra inviata. La tradizionale cerimonia di consiglia delle aquile tenuta presso l'aeroporto militare Enrico Comani di Latina è stata presieduta in rappresentanza del Comando Scuola dell'Aeronautica Militare dal generale di brigata aerea Enrico Degni, comandante dell'Accademia Aeronautica che ha personalmente appuntato l'aquila ad Alessio, primo allievo classificato del 125esimo corso OPC. Ha partecipato alla cerimonia anche il generale di brigata Paolo Riccò, comandante dell'aviazione dell'esercito che ha consegnato l'aquila a Gabriele, primo classificato tra gli 11 frequentatori della stessa forza armata. Il programma di addestramento affrontato dai 18 ragazzi e della durata complessiva di circa 4 mesi ha previsto una fase teorica di preparazione a terra ed una fase di volo condotta sul believolo T260B. Aver portato a termine con successo questo impegnativo corso rappresenta il più importante traguardo prima dell'invio presso le altre scuole di volo dove gli attendranno i successivi iter addestrativi. Emozioni tricolore al Bari San Nicola Airshow 2019 in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono. Vediamo il servizio. Un lungomare gremito di pubblico, occhi al cielo ed emozioni allo stato puro per lo spettacolo che come di consueto l'aeronautica militare ha regalato alla città di Bari. Un evento organizzato dal locale Aeroclub e dal quale la Forza Armata ha dato il proprio contributo. Un contributo che si ripete ogni due anni, quello che vede protagoniste sui cieli baresi le frecce tricolori e la cui prima esibizione avvenne nel 1987 in occasione delle manifestazioni legate al nono centenario della traslazione delle ossa di San Nicola da Mira a Bari. L'edizione di quest'anno è stata eccezionalmente caratterizzata da alcune novità come ci ha raccontato il generale di divisione aerea Aurelio Colagrande, comandante delle scuole dell'aeronautica militare. Novità che in parte ha riguardato proprio i reparti di formazione della Forza Armata. Le novità di quest'anno sono diverse. Si parte innanzitutto dalla presenza sul lungomare di Bari dei nostri velivoli di addestramento che i piloti dell'aeronautica militare utilizzano per diventare piloti militari e combattredi e quindi tutti i velivoli che appartengono al comando scuole avranno l'opportunità di essere visti dal pubblico di Bari. La seconda novità è che sorvoleranno il lungomare di Bari anche tutti i velivoli le cui basi sono situate sul territorio pugliese, quindi i velivoli F2000 a distanza a Giove del Colle e il velivolo F35 a distanza ad Amendola. L'evento che si è svolto l'8 maggio e che ha richiamato oltre 200.000 persone testimonia il particolare legame tra l'aeronautica militare e la città legame espresso con l'omaggio al Santo Patrono San Nicola che ne rappresenta l'anima. Il show odierno è dedicato alla città di Bari e in particolare è un omaggio che l'aeronautica militare fa al Santo Patrono della città di Bari a San Nicola il Santo delle Genti e visto che noi siamo una forza armata che lavora per la gente, tra la gente credo che non ci possa essere modo migliore per onorare il Santo Patrono di Bari alla nostra maniera quindi mostrando alla popolazione di questa bellissima città quello che l'aeronautica fa tutti i giorni a supporto della difesa e della sicurezza di questo paese. Per oggi è tutto, video news termina qui se volete guardare tutti i nostri servizi lo potete fare iscrivendovi al nostro canale YouTube. Grazie a tutti